Ben tornato a Quirinale, immagino che è proprio una certa emozione. Sono i sigilli dei Savoia, la storia dei sigilli con i sigilli. L'incontro con il presidente Ciampi si è svolto in un clima di grande cordialità. Il presidente ci ha intrattenuti per più di un'ora, toccando temi importantissimi, quali la nozione di patria alla quale lui tiene, come ha sempre dimostrato, in maniera permanente. Posso per la Presidente della Camera di visitare anche l'allestimento del Savoia del Savoia, una bellissima opera che si trova. Volevo sapere, di questi tempi, che cosa gli è rimasto? Sicuramente prenderò una residenza in Italia. Adesso se lei mi chiede dove, non lo so. Ho qualche idea, forse dovrò vedere, ma in tutti i casi prenderò anche, come si dice, un pietater a Roma. Allora, oggi è stata per me e per la mia famiglia una giornata di gioia profonda e sincera, in cui si sono confusi i sentimenti di emozione per il ritrovamento di luoghi cari alla mia memoria, e mai soppiti, e quello della fine di una stagione durata per molto tempo, che mi ha privato della cittadinanza del Paese che più amo.